Dagli atti degli Apostoli. In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocefisso e che Dio ha risuscitato dei morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata dai voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta statua. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore, il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario, non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il mio comando, che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Ci sono un paio di conti che non tornano nella liturgia della parola che abbiamo ascoltato oggi. Abbiamo sentito nella prima lettura lo stralcio del discorso che Pietro fa di fronte al Sinedrio, dopo che ha guarito uno storpio alla portabella del Tempio. E se avessimo letto i versetti precedenti avremmo imparato che quello storpio ogni giorno veniva portato da delle persone alla Portabella, una delle tante porte che permettevano l'accesso al primo atrio che circondava il Tempio, e quello storpio si guadagnava così da vivere, chiedeva l'elemosina. Era, dice Luca, negli Atti degli Apostoli, storpio fin dalla nascita. Dunque, una condizione irrimediabile, definitiva, irrevocabile, ma anche e soprattutto una condizione che era diventata normale. Era normale vedere lo storpio alla portabella del Tempio. Era normale fargli l'elemosina. Era normale che qualcuno si occupasse di lui. Finché non passano Pietro e Giovanni. E lì succede qualcosa di nuovo. Dentro a questa normalità ormai cristallizzata, dentro a questo modo di vedere la persona, lo storpio, la porta, la cattone, l'elemosina, dentro a questo mondo che ormai era standardizzato, passa Pietro e Giovanni e dicono «Non abbiamo oro e argento da darti, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo risorto, alzati e cammina». E lo storpio viene risanato, con grande stupore di tutta la folla. Vedete che cosa succede qui? Che bello che è questa parola. Perché dentro allo scontato, è scontato che questo sia disabile, è scontato che non riesca a vivere una vita normale, è scontato che ha bisogno dell'assistenza di tutti, è scontato che sia la porta bella tutti i giorni. Dentro allo scontato si infila l'imprevedibile. Alzati e cammina. Nessuno l'avrebbe immaginato, neanche lontanamente. E allora qui, nella prima lettura, abbiamo un impossibile che improvvisamente diventa possibile. Questo qui è il primo conto che non torna. Ma anche nel Vangelo c'è qualcosa che disvergola, qualcosa che non torna. Perché? Perché, alla fine dei conti, se ci pensiamo bene, non è poi così orribile e terribile che il mercenario fuga quando arriva il lupo. Il lupo non arriva mai da solo, arriva sempre nel branco. E il mercenario, quando arriva il branco dei lupi, beh, insomma, fa anche bene a scappare. Perché è meglio che ci rimetta alla vita una pecora piuttosto che il mercenario, che un guardiano delle pecore. È normale che succeda così. È normale che una persona si metta in salvo e che sacrifichi un animale, perché non c'è valore, commensurabilità fra la vita di una pecora e quella del mercenario, del guardiano delle pecore. Ma in questo Vangelo, sentite che anche qui si infila qualcosa di imprevisto, perché Gesù dice che il buon pastore fa il contrario. Mentre i pastori normali sfruttano il greggio perché prendono una lana, prendono il latte e se vogliono far festa e se hanno fame uccidono una pecora e mangiano la pecora e ammazzano l'agnello quando è Pasqua, dentro a questo modo normale di fare il pastore, il buon pastore che cosa fa? Esattamente l'incontrario. Anche qui c'è una imprevedibilità. Il buon pastore conosce le sue pecore, dà il nome alle pecore e soprattutto, udite udite, muore lui per le pecore. È il pastore qui che serve il greggio, non il greggio che serve al pastore per vivere. Anche qui c'è un impossibile che diventa possibile. Allora, una riflessione a partire da questi due elementi che abbiamo estratto dalla parola di Dio oggi. E la riflessione è questa, che il nostro tempo, il tempo che stiamo vivendo, il tempo che abbiamo nel cuore, quello che abbiamo dentro, dalla tavolozza di tutti i colori possibili, prende volentieri piuttosto il grigio che altro. E non solo per le difficoltà legate alla pandemia, a quelle economiche, il lavoro, che sono formidabili. Non solo per l'incertezza di una malattia, di un virus che continuamente colpisce e non sappiamo quando ce la caveremo e quando ci caveremo finalmente le mascherine dalla faccia. ma soprattutto, e a me sembra più profondamente, c'è dentro nel cuore di ciascuno di noi un appiattimento, una suefazione, un diventare ormai disarmati di fronte a questo tempo per cui non ci aspettiamo più niente. È il tempo in cui manca l'immaginazione. È il tempo, questo che stiamo vivendo, in cui manca l'aspettativa. È il tempo in cui l'impossibile rimane impossibile. E basta. C'è un teologo che ha coniato una straordinaria formula, si chiama Radcliffe, Timothy Radcliffe, e lui parla di niente altro che ismo, che diventa il virus che oggi si diffonde nel nostro mondo di pensare. Il niente altro che ismo. Che cos'è il niente altro che ismo? È quella piega mentale, quella curvatura del pensiero che riduce sistematicamente le cose al già noto, al già visto, al conosciuto, a quello che so già. Per cui lo storpio rimarrà sempre storpio, lo so già. Per cui il mercenario fa bene a fuggire di fronte al pericolo. Il niente altro che ismo è che quando guardo le cose, quando guardo le persone, quando guardo le proposte, concludo dicendo beh insomma alla fine non è niente altro che. Guardate che questo modo di pensare che si infila nella nostra testa è terribile. Che cos'è l'amore? Niente altro che chimica. Che cos'è il pensiero? Niente altro che corrente elettrica, che va da una parte all'altra del cervello, dei neuroni. Che cos'è la vita? Niente altro che il frutto del brodo primordiale e poi arrivano le comete, arrivano gli aminoacidi, lì parte tutto. Che cos'è la Terra? Niente altro che un pianeta abitabile. Che cos'è un feto? Niente altro che un grumo di cellule. Ma capite come perdiamo i colori della vita quando piombiamo dentro al niente che al trismo. E quando cominciamo a vivere i rapporti umani in questo modo è terribile. Un tizio è gentile con te. Non è niente altro che interesse. Una persona va in chiesa non è niente altro che un bigotto. Non è niente altro che una persona che deve farsi vedere. Tradizionalista. Non è niente altro che un abitudinario. Una persona ti chiede come va non è niente altro che curiosità. il meccanismo carissimi è sempre lo stesso. Diventiamo incapaci di guardare oltre e di immaginare qualche cosa di diverso dal grigio dal brutto e diventiamo sempre più convinti che la vita sia brutta e vera. Ci vuole immaginazione. Ci vuole immaginazione perché il pastore dà la vita per le pecore e fa una cosa imprevedibile che nessuno pensava. Ci vuole immaginazione perché ci affascina questo pastore che fa qualcosa di straordinario che mette il disordine nel nostro niente altro che. Ci vuole immaginazione per vedere l'amore perché l'amore funziona sempre affascina sempre incuriosisce sempre sorprende sempre perché è sempre nuovo e forse non è questo uno dei compiti dei cristiani fratelli e sorelle far vedere che la vita può andare diversamente dal solito prevedibile scontato trantran che può esserci un imprevisto nella nostra esistenza perché noi questa vita la guardiamo attraverso la fede noi siamo come i poeti i poeti vedono il lato nascosto delle cose quello che sfugge a tutti e lo fanno per il dono che hanno ricevuto il cristiano lo fa per la fede che ha perché sa immaginare un oltre un altro perché noi sappiamo immaginare qualcosa di diverso una civiltà fondata sull'amore dei rapporti fraterni la possibilità di perdonarci la possibilità di tenderci la mano la possibilità di guardarci in faccia di non vedere un nemico un antagonista uno che ti ruba qualche cosa che è tuo un tuo diritto verso anzi questo mondo che guarda sempre verso il basso ecco il compito dei cristiani è indicare il cielo è indicare che possiamo risollevarci perché il pastore dà la vita per le pecore e perché Cristo non è niente altro che un grande maestro dell'antichità o un uomo saggio di grande interiorità è il figlio di Dio ed è risorto per sempre oggi è il 25 aprile è la festa della liberazione e questa è stata resa possibile perché ci sono stati uomini che non si sono rassegnati al niente altro che così ma perché hanno avuto il coraggio di immaginare una comunità diversa fondata sulla fraternità sulla democrazia sul lavoro come il modo con cui ciascuno può collaborare il bene comune e allora che il Signore ci doni questa immaginazione anche nella politica in tutti i campi della nostra esistenza che noi possiamo immaginare qualche cosa di diverso di buono di bello di possibile anche se difficile ci doni il Signore che possiamo costruire insieme un sogno e che questo sogno prenda i nostri cuori li affascini e li muova verso il bene comune verso la formazione di una casa comune grazie a tutti